Siamo a Milano, siamo in una location fantastica all'interno del chiostro di San Marco e oggi siamo in collaborazione con Casa Pitti e stiamo presentando qualcosa di veramente innovativo sul mercato. È una nuova tecnologia sviluppata da Marcegaglia in grado di rendere personalizzabile un'esigenza del cliente. Stiamo parlando di acciaio, l'acciaio è un materiale nobile, che è super riciclabile ed è prodotto anche in modo estremamente sostenibile perché abbiamo una filiera estremamente controllata. In tutto questo contesto siamo stati in grado di metterci insieme con una realtà di design molto interessante che si chiama Casa Pitti e abbiamo fatto qualcosa di unico, pensiamo, perché sta riscontrando notevole successo, c'è molta gente che viene a vedere e noi pensiamo che effettivamente sul mercato questa possa essere una rivoluzione perché è un materiale interessante e perché il design è effettivamente cattivante.